Giro di Boa anche del Mondiale MotoGP, il Gran Premio d'Austria come sempre rappresenta uno dei turning point della stagione e lo ha fatto anche in questo appuntamento, l'undicesimo della stagione per quanto riguarda i prototipi delle due ruote. Ancora una volta si dimostra lo stradominio della Ducati, cosa ovviamente mai banale in questa stagione, ma la cosa più importante è che nelle due gare sprint e lunga della domenica Francesco Bagnaia di fatto ricuce lo svantaggio che ci aveva rispetto a Orge Martin e di fatto si prende tappa e maglia. Bagnaia infatti andrà a vincere in scioltezza la gara che conta di più, quella della domenica, e appunto col fatto che Martin nella gara del sabato è arrivato dietro, ma di tante posizioni, sesto in quanto vittima di long lap penalty e secondo nella gara lunga, appunto Bagnaia ha avuto la possibilità di arrivare in testa al Mondiale, annetto che appunto la questione è ancora molto lunga perché mancano nove gare al termine di questo Mondiale dei prototipi che appunto però come sempre è un monomarca Ducati per quanto riguarda le prime quattro posizioni, ma appunto storicamente nella pista austriaca le Ducati sono sempre andate forte, anche quando c'era Dovizioso, quindi una moto vincente ma non così tanto dominante, annetto che all'epoca quei mondiali li vinceva tutti evidentemente tranne che la Ducati, però comunque l'Austria storicamente per come era strutturata anche la precedente versione della Ducati in MotoGP era una pista favorevole, vista la conformazione, visti i tanti freni accelera, è ovvio che con una moto invece adesso così completa che può permettersi di avere quattro piloti nelle prime quattro posizioni in gara lunga dell'Austria e anche nel Mondiale MotoGP, seppur appunto con versioni differenti, era evidente come appunto era quasi scontato vedere una gara di questo tipo, forse era scontato anche vedere un dominio di bagnaia, probabilmente no, annetto che appunto Martina ha corso mezzo infortunato, Martina ha avuto un problema al pollice della mano destra, fasciato per questa occasione e dunque anche un minimo di rendimento è andato calando, al netto che comunque nonostante questo piccolo infortunio Martina era in pole position, con il record della pista siamo andati sotto il minuto e ventotto che per questa nuova conformazione del GP d'Austria e per quanto riguarda la MotoGP è veramente un tempo spaziale, al netto che appunto la possibilità era quella di vedere un duello tra Martina e bagnaia, Martina in gara sprint di fatto causa un long lap penalty, viene appunto retrocesso in sesta posizione e bagnaia vince facile, bagnaia per la verità va a vincere facile anche nella gara lunga della domenica, una gara parecchio noiosa in modo di vedere, non c'erano grandi chance di vedere le lotte al diciamo prima posizione della classifica appunto perché bagnaia aveva un passo comunque molto importante, nella prima metà della gara il pilota piemontese è andato sempre sotto il minuto e trenta, mentre i suoi diretti avversari al secolo Martina e Bassini andavano comunque sul trenta basso che era un signor andare, fare quei decimi di vantaggio accumulati nei primi giri di gara poi hanno permesso a bagnaia di gestire, alla fine il piemontese vincerà con due secondi di vantaggio in una gara che ha visto delle lotte comunque interessanti, ma per posizioni che tra virgolette non contano, quindi quelle al di fuori del podio comunque della top 10, dove appunto come al solito la spiegano KTM, Ducati e Aprilia non necessariamente in quest'ordine, a carattere scompiglia il solito Mark Marquez che in partenza va a fare un contatto con Morbidelli, Nuford Direction va detto per questo tipo di contatto, si ritrova tredicesimo in curva 1, alla fine Marquez rimonta ma alla fine arriverà in quarta posizione, appunto come detto prima, il primo, il secondo, il terzo e il quarto della gara dell'Austria sono il primo, il secondo, il terzo e il quarto del campionato mondiale MotoGP 2024, bagnaia vince la decima gara in totale sulle 22 corse contando anche le sprint e dunque suona il canto degli italiani il nostro inno nazionale e appunto con questa vittoria e questi 25 punti alla fine arriva ad averne 5 di vantaggio su Orge Martin che sono esattamente quelli che separano il primo e il secondo classificato dopo la sprint, bagnaia era pari e partiva con una collezione di svantaggio al netto che appunto il divario tra i due era veramente minimo, adesso appunto bagnaia è primo con 5 punti di distacco su Orge Martin, tutto questo va a confermare come una volta per tutte il duello propriamente detto per il campionato mondiale sia tra Francesco Bagnaia e Orge Martin che fin dall'inizio va detto erano i principali contender al titolo del mondo dopo 11 gara abbiamo un distacco di 5 punti tra i due principali duellanti con tutti gli altri di fatto after the music e quindi dovremmo concentrarci da qui fino a Valencia speriamo con un duello tra appunto il pilota spagnolo che andrà in aprile l'anno prossimo e Francesco Bagnaia confermato invece nel Ducati team ufficiale in terza posizione Enea Bastianini che fa come al solito una gara molto solida, va comunque a confermare un ottimo momento di forma sono di fatto 5 podi o meglio 4 podi nelle ultime 5 gare, mai peggio di quarto, una vittoria a Silverstone, due terzi posti con questo in alto insomma Bastianini è un altro uomo molto importante che non potrà probabilmente competere il petito del mondo ma sarà importante il fatto che possa fare da spoiler che in gergo si indica per quel pilota che possa fare da ago della bilancia da arbitro per questo mondiale perché è ovvio che qualora Bastianini dovesse arrivare davanti a uno tra Martino e Bagnaia potrebbe recitare un ruolo molto importante in tal senso per far pendere appunto il titolo del mondo verso la Spagna o l'Italia e lo stesso ruolo in realtà lo potrà anche recitare Marc Marquez che è vero che abitualmente la moto la stende per varie vicissitudini però comunque alla fine con una moto dell'anno scorso riesce ad arrivare abbastanza agilmente nelle prime 3, 4, 5 posizioni è vero che comunque la Ducati è una moto nettamente superiore alle altre e anche oggi abbiamo un manipolo di Ducati nelle prime 10 posizioni e il mondiale appunto è una questione appunto della casa di Borgo Panigale team diversi ma stessa moto perché ricordiamo che team Pramac e team Ducati ufficiale corrono con la moto GP24 Marquez corre con la moto GP23 ma comunque quarta sotto in termini di classifica del mondiale non potrà competere quest'anno per il titolo del mondo visto il troppo distacco a mio modo di vedere e viste anche la capacità inferiore del mezzo perché è vero che sono moto molto simili ma non sono uguali quindi nelle alcune evoluzioni è ovvio che la 24 Ducati sia meglio della 23 non per difendere Marquez però Marquez siccome andrà in Ducati ufficiale al prossimo al fianco di Bagnaia è ovvio che lì punterà davvero al bersaglio grosso per il resto parliamo delle solite moto che dominano in questo campionato mondiale KTM April e Ducati non necessariamente in quest'ordine ma in Austria comunque le KTM tornano redivive dando appunto un fuoco speriamo non di paglia dopo un periodo di grande anonimato il migliore della casa austriaca nel circuito austriaco è Brett Binder in quinta posizione sesto invece è Marco Bezzecchi anche lui comunque in crescita dopo le ultime gare gli ultimi due ottavi posti erano quelli del Saxe Ring e di Silverstone in settima posizione invece abbiamo Maveri Quignales con un'Apriglia che comunque compete per le posizioni della top 10 di fatto l'Apriglia è la seconda barra terza forza in campo ma appunto col fatto che ci sono spesso 4-5 Ducati competitive in questa situazione è ovvio che bene che vada tu possa puntare a una top 5 a qualche podio ogni tanto se le condizioni lo consentono in ottava posizione invece abbiamo un ottimo Franco Morbidelli che peraltro ha appena firmato un nuovo contratto con la Ducati non ovviamente con il team Pramac che ricordo andrà in Yamaha il prossimo anno ma sarà di fatto di ritorno alla VR46 Academy perché appunto Franco Morbidelli ha firmato con il team VR46 quello dove adesso ci sono Bezzecchi e Di Gian Antonio Di Gian Antonio però peraltro oggi non poteva correre a causa infortunio in nonna posizione Alex Spargaro che ricordo ha annunciato un ritiro al termine di questa stagione e in decima posizione Alex Marquez tanto per cambiare appunto Ducati, Aprilia e KTM in quest'ordine come evidentemente recita la top 10 cosa abbastanza non nuova diciamo in questo campionato del mondo dove le europee hanno fatto quel step di qualità in aerodinamica e completezza tecnica che un tempo erano le giapponesi giapponesi come al solito finiscono after the music con Yamaha e Honda disperse ma ovviamente questa non è una grande novità tutti gli altri italiani purtroppo sono finiti fuori dalla zona punti ma per vari motivi Marini sappiamo che di fatto finirà probabilmente a 0 punti questo campionato o a un punto in realtà meglio visto il quindicesimo posto del Saxery ma appunto la Honda è una moto talmente indietro che sia Mirk e Marini fanno gli sviluppatori della moto agonistici Lorenzo Savadori era presente anche qui in questa gara come wildcard in Aprilia ed è finito ventesimo Gian Antonio invece non ha neanche corso a causa appunto infortunio per un moto mondiale che invece tornerà ad Aragon dopo il GP di Olanda di Formula 1 dopo ovviamente un grande doppio appuntamento che ci appunto aspetterà tra l'8 e il 21 settembre due gran premi di Misano il primo di San Marino il secondo dell'Emilia Romagna il secondo appuntamento di Misano il weekend dove io sarò invece a Cremona per la Superbike quel weekend lei sostituisce il GP del Kazakhstan che appunto è stato ancora una volta cancellato passiamo anche a parlare però delle categorie propedeutiche per connotare questo racing podcast del GP d'Austria per quanto riguarda il mondiale dei prototipi delle due ruote se ha suonato Fratelli d'Italia per quanto riguarda la MotoGP con Francesco Bagnaia suona anche per Celestino Vietti Ramos che torna a vincere esattamente un anno dopo nella pista austriaca la pista austriaca per Celestino Vietti è quella che ha dato le più grandi soddisfazioni nella carriera ha vinto la prima gara in Moto3 l'ultimo in Moto2 appunto era dell'anno scorso e il canto italiano risulta ancora una volta per lui dopo una gara letteralmente dominata Vietti partiva dalla pole position ha impresso un passo imprendibile per gli altri e appunto gli avversari si sono dovuti inchinare al pilota piemontese in seconda posizione abbiamo Alonso Lopez sul team speed up Lopez con il ricordo per la Bosco Scuro e in terza posizione invece un'altra Kalex quella del CFMoto a Sparles in Team quella di Jake Dixon che di fatto è il terzo podio consecutivo dopo la vittoria in casa del Silverstone nel secondo posto del Saxe Ring occasione letteralmente buttata per vari motivi per i due leader del campionato ovvero Ayo Gur e Sergio Garcia il giapponese peraltro fresco di firma in MotoGP col team Aprila Trackhouse Racing si è infortunato è stato dichiarato unfit dopo un grave infortunio nelle prove libere una frattura ha coinvolto il pilota giapponese mentre Garcia purtroppo non aveva passo ha fatto un long lap penalty è arrivato quattordicesimo e sono pochissimi punti guadagnati rispetto magari agli altri potenziali avversari in primis Alonso Lopez che infatti ne approfitta e arriva secondo ma anche Joe Roberts il pilota statunitense che arriva nono e quindi è un mondiale che comunque non è ancora chiuso ma comunque può essere indirizzato verso Sergio Garcia ovvio che se Garcia avesse avuto la lucidità di anche avere una sesta posizione allora il mondiale poteva essere leggermente più verso la Spagna anziché le altre nazioni coinvolte in questo caso Giappone e Stati Uniti il mondiale invece più indirizzato di tutti è quello della Moto3 una classe entrante che invece di solito regala tantissimo spettacolo e tanti duelli combattuti alla fine vede l'ennesima vittoria in stagione di David Alonso settima su 11 gare anche una volta suono gloria immarsessibile per il pilota colombiano una gara vinta in questo caso di volata una gara di rimonta come un po' si presta alla Moto3 soprattutto in un pistino con quello dell'Austria Alonso partiva dalla sesta posizione alla fine taglia il traguardo in volata battendo i diretti avversari in questo caso David Munoz spagnolo del team Boe e Daniel Olgado che è uno dei candidati sempre per vincere il mondiale ma anche questa volta sembra di avere veramente però un passo indietro il distacco però qui del primo miliardo inseguitore ovvero lo spagnolo Ivano Ortolà rispetto a David Alonso è decisamente importante 53 punti sono già tanti per un mondiale che si decide sempre di solito sulle volate e sulle poche differenze di punteggio tra i vari piloti Alonso comunque sarà ovviamente impredittato per arrivare in Moto2 il prossimo anno chiudiamo velocemente con la MotoE una MotoE che vede un grande allungo probabilmente decisivo per quanto riguarda il campionato del mondo la classifica ovviamente non è aggiornata ma Hector Garzò possiamo confermarlo anche una volta in testa al mondiale con appunto un Oscar Gutierrez che vince gara 1 ma purtroppo cade in gara 2 e dunque Garzò di fatto allunga a un round dalla fine Misano sarà di fatto la cartina di tornasole per decidere chi appunto tra lo spagnolo Mattia Casadei e Oscar Gutierrez che però è pochino più staccato in questo momento avrà la possibilità di giudicarsi il mondiale MotoE alla sesta stagione comunque un round che vede un monomarca Ducati anche in questo caso ricordo che i piloti corrono con le Ducati del V21L un nuovo modello che ha sostituito l'Energica appunto in pista fino a due stagioni fa appunto ultimo round qui invece a Misano le altre categorie invece correranno ad Aragon di fatto a inizio settembre per una grande gara e un grande mondiale che complesta oramai ad arrivarsi al giro di Boa completato della stagione il saluto da parte di Meteo Torgaard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti